Tre giorni in bici per scoprire le bellezze della provincia di Pesero e Rubino e regalare ai ciclissi un'esperienza da assaporare lentamente a ritmo di pedalate. Per gli amanti della due ruote, dal 23 al 25 aprile, torna l'Adriatic Green Trail, l'iniziativa nata dalla passione di quattro amici che per la seconda edizione conta di arrivare a 200 partecipanti. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere e sviluppare un turismo esperienziale e sostenibile che porti a scoprire le meraviglie di 30 borghi ricchi di arte, natura, tradizioni e sapori. Il tutto senza un tempo limite e nelle strade secondarie prive di traffico. E non vediamo l'ora finalmente di pedalare. Saranno come l'anno scorso, tre giornate cicloturistiche che vedranno il 23, essenzialmente toccare i percorsi di Pesero, quindi con la bellissima panoramica, poi andremo a Gradara, a Tavuglia e tutti a Vallefoglia fino a Montefabri. Ogni giorno partenza ed arrivo saranno da un casolare di campagna sito a Santa Maria dell'Arzilla, Magione Broccoli, che si presta bene all'evento, a godere proprio la giornata e la festa. Il 24 aprile sarà la volta di Urbino, in cui raggiungeremo Urbino attraverso strade secondarie, inedite, prive di traffico. E passeremo per una chiesa bellissima che è Monte Santa Maria, che vi invitiamo poi tutti ad andare a visitare. Raggiungeremo quindi Urbino per poi tornare nelle nostre zone passando per le Cesane e quindi toccheremo anche a Montbaroccio. L'ultimo giorno, l'apoteosi finale, finalmente siamo nella nostra città, Fano, in cui ci sarà la bellissima passeggiata dell'Isippo. Faremo tutta la costa adriatica, ecco perché anche il nome è Adriatic Green Trail, perché sarà un connubio tra collina e mare. Quindi andremo sui nostri borghi bellissimi a cominciare da Mondolfo fino a raggiungere poi le zone più interne, Mondavi, Orciano. E torneremo poi per le zone di Cartoceto, Saltare, ci sarà un emozionante passaggio all'interno del Museo del Balì. Domenico, ci sono in programma diversi eventi collaterali, che cosa è previsto nello specifico? Abbiamo arricchito l'offerta dei tre giorni anche con una passeggiata in bicicletta ovviamente per la Fano Romana, che poi culminerà con un apericena presso il Bastione Sangallo. E il 25 invece è una pedalata femminile come l'anno scorso, con partenza dal Pincio ed arrivo in Magione, in cui faremo la festa con un pasta party e con un hotel party per tutti i bambini, perché è una passeggiata adatta a tutte le famiglie e anche ai bambini. La partecipazione è gratuita ed eventualmente com'è possibile iscriversi? Allora, andando sul nostro sito, la partecipazione è con un contributo, soprattutto per ciò che riguarda la giornata della passeggiata family, perché abbiamo forbici che richiede un'assicurazione necessaria per mettere tutto in sicurezza. L'evento, patrocinato dagli Assessorati al Turismo e allo Sport del Comune di Fano, è stato illustrato questa mattina nella Sala della Concordia, alla presenza degli Assessori Fattori e Brunori. Quest'ultima ha sottolineato come l'iniziativa riesca a promuovere attraverso lo sport, salute e benessere, coinvolgendo adulti e bambini in piacevoli momenti di convivialità. Assessore, un evento turistico ma anche culturale perché darà la possibilità ai ciclo amatori di poter visitare le bellezze della nostra città? Esatto, siamo contenti perché ogni evento dovrebbe essere così, unire sport, turismo e cultura. Questo è assolutamente importante e partirà con un evento collaterale, l'Adriatic Green Trail proprio con una visita in bicicletta in giro per il centro della città. Poi i ciclisti si fermeranno al Bastione Sangallo per fare una piccola merenda e avranno modo di visitare tutti gli spazi più belli e più suggestivi della nostra Fano che è bellissima da girare, naso all'aria e con una bicicletta ancora di più. Quindi siamo molto contenti, ci siamo coordinati anche per la visita alle bellezze culturali e poi dopo lasceremo l'app di Visit Fano e anche dei biglietti per poter con più calma entrare assieme alle famiglie nei luoghi della cultura. Quindi è un momento molto importante per far conoscere la nostra città che chi ci abita sa già benissimo quanto è bella e quanto è meravigliosa.